Altri due positivi ieri in Irpini, a Monteforte e Montoro, i comuni interessati dai nuovi casi di Covid-19. Il primo è stato comunicato dall'ASL, la notizia del nuovo positivo a Montoro è stata invece data dal sindaco Girolamo Giaquinto. L'uomo di Monteforte si trova in ospedale. Presso la città ospedaliera sono attualmente 8 le persone ricoverate e 2 sono di fuori provincia. Fortunatamente le condizioni dei pazienti non sono preoccupanti, mentre la maggior parte dei nuovi contagiati sono persone asintomatiche. Molte in via di guarigione, altre invece hanno sconfitto il virus. In città fino a ieri mattina erano 140 le persone in isolamento, circa 1000 in Irpina. Numeri che purtroppo sono destinati a crescere. Sono ancora molti i cittadini che stanno rientrando dalle vacanze. Numerosi quelli che anche ieri si sono recati a Campo Genova, dove, salvo proroghe, domani dovrebbe essere l'ultimo giorno dove è possibile recarsi per sottoporsi a test sierologico o tampone. Per almeno altri 10 giorni dunque assisteremo ad un incremento di persone positive al Covid-19. Il virus ha infatti ripreso a circolare a causa di una minore attenzione mostrata nell'ultimo mese e mezzo con le vacanze che hanno contribuito a far distrarre soprattutto i più giovani rispetto all'uso della mascherina e al mantenimento del distanziamento, come dimostra anche l'età della maggior parte dei nuovi contagiati che si è abbassata di molto rispetto alla prima fase dell'epidemia. Molti dei nuovi positivi hanno meno di 30 anni e in alcuni casi si tratta anche di bambini.